... Dottore, questa è la settimana delle cardiologie aperte ed è oggi nel giorno di San Valentino una giornata dedicata al cuore a tutti gli effetti. Quali sono gli obiettivi di questa giornata di prevenzione? È un evento che ogni anno si ripete, è un evento che noi per il secondo anno di fila abbiamo aderito. Fa parte dell'ambito della settimana delle cardiologie aperte promosse dalla Fondazione per il tuo cuore che ha lo scopo soprattutto di sensibilizzare la popolazione ad un corretto stile di vita per prevenire eventi cardiovascolari che sappiamo che è la prima causa di morte del mondo e anche in Italia. La popolazione biellese sappiamo che è una popolazione abbastanza più a rischio perché è una popolazione con un'età avanzata che ha diversi fattori di rischio. L'obiettivo di oggi è quello di cercare di dare informazioni utili riguardo un corretto stile di vita che prevede un'attività fisica regolare non è richiesto di fare nulla di che ma camminate periodiche almeno una volta o due a settimana mangiare in maniera sana che prevede quindi una dieta mediterranea che è anche patrimonio dell'UNESCO controllare la pressione che è un principale fattore di rischio e il colesterolo. Tutto questo messo insieme ha lo scopo quindi di cercare di dare informazioni utili e ribadire ancora di più una volta appunto un percorso salutare che sarebbe bene tenere. In questa giornata prevediamo quindi di dare informazioni utili in questo senso di misurare la pressione arteriosa e di valutare la scala di rischio quindi il profilo di rischio individuale di eventi cardiovascolari a breve e medio termine. Abbiamo anche in programma di far vedere in Aula Magna delle presentazioni riguardo appunto che cos'è l'infarto e che cos'è un corretto stile di vita attraverso appunto filmati che fanno vedere quali sono le sette regole fondamentali per tenere un cuore giovane sano.